Posso prendere una sedia? Ma pigliate le tutte, tanto non sono le mie. Posso sedermi? E ormai, ma io fai come ti pare, cioè, che ti devo dire? Puoi andare a... chiamiamo il ragazzo del bar? Ci facciamo portare un bel caffè? Eh, magari. Cioè, proprio quando... Cioè, nessuno lavora proprio in questa ditta, solo io. Sprendiamo un po' di sole, che dici? Cioè... Peccato che non c'ho la sedia o lo sdraio oggi. Beh, non è il sole, ma io quelli sono le lampade. Ah. Grazie a te, ma io che non capisci nulla. Senti un po'. Ma te ce l'hai una fidanzata? Sì? Ce l'ho. Pure una fidanzata c'hai? Mamma mia, adesso un cesto, sicuro. Si chiama... Angelina. Che nome ti merito? Angelina. Deve essere un cesto, sicuro. Insomma, dimmi una cosa. Ma la ami, almeno? Sì, tanto. Sì, tanto. È un buon film porno, ma io... Tanto. Dimmi una cosa seria, però. Ma se... Ma se... Questa tua... Angelina. Angelina. Ma se tu scopressi che... Che questa tua Angelina c'avesse un altro, che faresti? Ma Angelina ce l'ha un altro. Ah, non immaginavo ce l'ha un altro. Sta con Brad Pitt. Angelina, hai detto. Sì. Detta anche Angelina Jolie. Sì, sì. Eh, cioè quella che sta con Brad Pitt, l'uomo più bello del mondo. Sì, ma tanto so che la lascerà. Eh, tanto la lascerà. E poi staremo sempre insieme. Eh, Angelina Jolie, eh. Saremo sempre insieme. La donna più pagata dell'universo, che sta con l'uomo più bello dell'universo, lo lascia. C'hanno 15, 16 figli. Li lascia tutti. Si prende un aereo, scende a Pisa, piglia un taxi, arriva a Pescia, da te. No! Ah! La vado a prendere io all'aeroporto. C'ho la bici. Ah, c'hai la bici, c'hai! Mi dici un'altra cosa? Sì. Ma a te, per caso, no? Ti che hai fatto tante esperienze nella vita, che sei un uomo dannata, ti hanno mai messo sotto con una sedia a rotelle? No, mai. E allora prova. Tommazzo, oggi faccio una strage. Oggi faccio una strage. Eccomi, eccomi, sono pronto, Dado. Marco, oggi faccio una strage.